Sono trascorsi, sono andati 45 secondi in avvi di secondo tempo, sono due, non sono sistemati in barriere da Napoli con il portiere Crispino. L'Urgeno è pronto a battere, grande traffico, un aumento in mezzo, con la presenza anche di un bambino di testa come Mancunson, e Malaghi spione, il colpo di testa, e la Juventus è in vantaggio, Juventus è in vantaggio, ha segnato Cepaudo, 1-0 per i piaccodieri, 46esimo minuto, Cepaudo dal secondo palo di testa, non sbaglia, Juventus è in vantaggio, questa notizia del mercato è in vantaggio con me